Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Dilucca in apertura del nostro telegiornale La Cronaca all'indomani della City organizzato da alcuni cittadini sotto elogiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele per dimostrare solidarietà all'ex partigiano Lilio Giannichini proseguono le indagini degli investigatori al fine di dare un volto all'aggressore il punto nel nostro primo servizio E' ancora avvolta nel mistero l'aggressione ai danni dell'ex partigiano Lilio Giannichini avvenuta domenica nel cortile della casa del Clero Gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze e a fare indagini per riuscire a dare un volto al bandito ma ancora tanti sono i punti interrogativi anche perché i filmati delle telecamere di video sorveglianza poste nei pressi del complesso sono inutilizzabili e anche l'arma forza una mazza o una spranga di ferro con cui l'87enne è stato più volte colpito alla nuca e al volto ancora non si trova Inoltre tra le domande che gli inquirenti si pongono vi sono anche quella di come l'aggressore potesse aver aggiunto il cortile più interno del complesso qui si accede tramite un cancello automatico che si apre solo dall'esterno con un telecomando Il malvivente seguiva allora Giannichini e quando lui ha aperto il secondo varco per parcheggiare l'auto è riuscito a passare nessuno lo ha visto e ancora per uscire il bandito si è servito delle chiavi dell'ex partigiano è riuscito ad entrare, aggredire l'uomo e fuggire prima che il cancello si richiudesse su questo punto più probabile il furto del mazzo chiavi dato che quando Giannichini è riuscito a raggiungere la sala mensa per chiedere aiuto e le inservienti sono corse fuori il cancello era ancora aperto ma ovviamente del malvivente nessuna traccia Insomma le indagini non sono semplici al momento le forze dell'ordine lasciano aperte tutte le piste quella di un'aggressione a scopo di rapine è quella di matrice politica L'ex direttore invece che ha subito anche un delicato intervento si trova ancora ricoverato all'ospedale Cisanello nel reparto di neurochirurgia, le sue condizioni starebbero comunque migliorando Proseguono sulla piana i furti nelle abitazioni e mentre i lucchesi festeggiavano per le festività i ladri svaliggiavano le loro abitazioni ieri vittima dei malviventi una famiglia residente in un appartamento in via Salicchia San Marco i ladri nel pomeriggio dopo aver rotto un infisso si sono introdotti all'interno della casa portando via un computer portatile, un televisore al plasma e alcuni gioielli i vicini non si sarebbero accorti di niente sul fatto, indagano i carabinieri E chiudiamo con la cronaca, realizzazione pensilina sul Viale Europa in corrispondenza della fermata del Barnelli e di un parcheggio gratuito Viale Europa nei pressi della Cassa Edile posizione della Giunta Comunale nei confronti della delibera regionale sulla chiusura di alcune stazioni per velocizzare la tratta Viareggio-Lucca-Firenze e creazione di un terminal bus accanto alla stazione ferroviaria nella zona dell'ex Scalo Merci questi gli argomenti al centro dell'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra il comitato pendolari Lucca-Firenze con l'assessore del comune di Lucca Francesca Pierotti e il capogruppo PD in Consiglio Comunale Francesco Battistini tra le cose maggiormente positive emerse durante la riunione il fatto che l'amministrazione Tambellini ha inserito la realizzazione del parcheggio nei pressi della Cassa Edile al primo punto del piano triennale degli investimenti del comune maggiori dettagli sull'esito della riunione nella telegiornale di questa sera alle ore 19 e parliamo adesso di cultura nel nostro prossimo servizio un bilancio sull'attività di Artemisia a 6 mesi dalla sua apertura sentiamo nonostante sia stato aperto da poco più di 6 mesi il polo Artemisia a Tassignano si è già fermato come un punto di riferimento culturale della piana di Lucca a confermarlo sono i dati la biblioteca Ungaretti ha fatto registrare un incremento dell'utenza del 55% che è passata da una media di 105 persone della vecchia sede in piazza Don Cesare Stefani a quella di 163 persone al giorno questo ha portato anche a un aumento del numero dei prestiti dei libri che a confronto con il 2011 è cresciuto del 38% affare da traino è stata in particolar modo la narrativa per bambini e ragazzi che adesso dispone di una sala dedicata in aumento anche il prestito multimediale di DVD e CD e gli accessi ad internet il polo Artemisia ha ospitato in oltre 125 iniziative culturali con una media di oltre una al giorno ha registrato un incremento nei partecipanti ai corsi di formazione promosse dal comune in collaborazione con associazioni che sono saliti dai 112 del 2011 a 173 suddivisi in 20 insegnamenti contro i 13 dello scorso anno ancora aperte infine le iscrizioni per le lezioni di yoga per gestanti che inizieranno a gennaio e per leggere per leggere un corso di lettura ad alta voce destinato ai genitori per aiutarli nella lettura dei libri a figli piccoli le lezioni prenderanno il via il 7 gennaio il polo culturale Artemisia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 il sabato dalle 8.30 alle 18.30 e la seconda e quarta domenica del mese dalle 9.30 alle 12.30 e restiamo sulla territorio del comune di Capannori e andiamo a vedere il presepe realizzato dall'associazione Valle Digiano nella chiesa di San Quirico in Petroio con il periodo natalizio tornano oltre ai mercatini e all'arrivo di Babbo Natale gli appuntamenti con i presepi che anche a Capannori rappresentano una tradizione radicata presepi che possono essere viventi come quello di Ruota o artistici molto particolari come quello di Valgiano che è proprio quello che vedete nelle nostre immagini l'associazione Valle Digiano da 10 anni allestisce infatti nella chiesina di San Quirico in Petroio un presepe artistico diverso di anno in anno un presepe divenuto oramai un'attrazione che richiama migliaia di visitatori che immortala una rappresentazione della natività con effetti scenici particolari scenografie originali e ricercate animazioni, luci e pesaggi con creazioni dettagliate quest'anno la natività è formata da statue originali del Settecento e l'opera completamente in legno e inoltre la particolarità di essere costruita sull'acqua con cascate e navi una costruzione suggestiva e affascinante con i personaggi simbolo del presepio dalla Madonna Giuseppe dal vuo all'Asinello fino a Re Magia Gesù Bambino che però si differenzia dai classici presepi che spesso siamo abituati a vedere la chiesa resterà aperta al pubblico per visitare il presepe fino al 13 gennaio i giorni festivi dalle 9 alle 12 dalle 14 alle 19 quelli feriali dalle 15 alle 18 dal 14 al 25 gennaio il presepe sarà poi a disposizione per eventuali visite solo al pomeriggio dopo le ore 16 e prima di salutarvi e darvi l'appuntamento per questa sera alle 19 con l'edizione serale del nostro telegiornale vi ricordo che quest'oggi a partire dalle 15 potete seguire in diretta streaming sul nostro sito internet www.dilucca.it la seduta odierna del Consiglio Comunale di Lucca all'ordine del giorno la risposta a varie interrogazioni e il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di una procedura espropriativa quindi vi ricordo a partire dalle ore 15 sul nostro sito internet diretta streaming del Consiglio Comunale di Lucca per questa edizione è tutto grazie per averci seguito grazie per averci seguito